Ti saluto con la pace del Signore e che Dio benedica grandemente la tua vita e l'intera tua famiglia. Oggi è mercoledì 25 maggio 2022 e siamo pronti per ascoltare la parola del Signore che questa mattina dice proprio così. Si grida per le molte oppressioni, si alzano la mente ma nessuno dice dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte ispira canti di gioia? La gridano ma egli non risponde. E questo testo lo possiamo trovare nel libro di Giobbe capitolo 35, i versetti che vanno dal 9 al 12. Il titolo di questa meditazione biblica è questo, il Dio che io conosco. Quante volte di fronte a drammi e tragedie terribili abbiamo sentito dire che orrore, il vostro Dio che dite di essere giusto e buono avrebbe potuto impedire tutto questo ma non lo ha fatto. Evidentemente non esiste o se esiste non si preoccupa della situazione dell'umanità. In molti cercheranno di convincerci che Dio sia indifferente ai drammi umani ma non vi riusciranno perché abbiamo la consapevolezza che il Dio che conosciamo, il nostro Dio, è l'esatto opposto. Egli si è rivelato nella persona di Gesù Cristo che è venuto a illuminare il mondo per mezzo dell'amore, del perdono, della riconciliazione, della pace che ha profuso. Il mondo però ha rifiutato lui e tutto ciò che egli offriva facendo morire proprio con lui che era il principe della vita. I Vangeli raccontano che un giorno in Giudea, mentre Gesù non è presente, il lutto colpisce tragicamente una famiglia. Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. E con queste parole Marta, una delle due sorelle di Lazzaro, si rivolge a Gesù al suo arrivo. Alcuni vicini di casa, giunti lì per consolare le sorelle, commentavano non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morissero. E in simili casi si è portati a rivolgere i rimproveri a Dio. Gesù non risponde in modo diretto a questi ragionamenti. Egli afferma io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me anche se muore vivrà. E aggiunge, credi tu questo? E' a causa del peccato che la morte regna nel mondo. Pensiamo di essere più saggi di Dio, pretendendo di dirgli ciò che dovrebbe fare oppure ci affidiamo a Lui e a quello che ha fatto per amore per noi. Scegliamo di dargli fiducia e di proseguire il nostro cammino con speranza e con fede, anziché chiacchierare, chiacchieriamo con Dio, anziché sparlare, parliamo con Dio, anziché fare ragionamenti vani, ragioniamo con Dio, parliamo con Lui, poniamogli delle domande. Dio è fedele, Dio è vivente e Lui risponderà per certo alle tue domande e alle domande di ognuno che si rivolge a Lui, perché Lui ha detto voi mi cercherete, mi cercherete con tutto il vostro cuore ed io mi lascerò trovare da voi. Quindi c'è una condizione per trovare Dio, per aver comunicazione con Dio e bisogna cercarlo con tutto il cuore, non solamente con la teoria, vabbè parlo con Dio, gli chiedo qualcosa, no con tutto il cuore, con tutto il nostro essere, perché Dio vuole tutto il nostro essere e Lui sarà pronto a rispondere a qualsiasi domanda, a qualsiasi interrogativo, a qualsiasi dubbio, a qualsiasi cosa. Dio risponde perché è vivente. Ti fidi di Lui? No? Inizia a farlo. Ti fidi di Lui? Sì? Continua a fidarti. Ti fidi di Lui? Forse? Sperimenta, prova e vedi quanto il Signore è buono, perché io l'ho provato, testimonianza personale, che Dio esiste, risponde, parla e quindi c'è. Beh, cerchiamolo con tutto il nostro cuore e vedrai che Dio si lascerà trovare. Io ti saluto, ci vediamo domani al solito appuntamento e che Dio benedica grandemente la tua vita. Pace del Signore!